Roberta Di Padua pubblica una foto evocativa. E a sorpresa arriva il commento di Barbara De Santi. Cosa si sono dette le due ex rivali di U e D? Il pubblico di Uomini e Donne sa che non è mai corso troppo buon sangue fra Roberta Di Padua e Barbara De Santi In passato ci sono stati dei veri e propri scontri fra le due protagoniste del dating show condotto da Maria De Filippi La De Santi, un insegnante di sostegno mantovana, è ormai una veterana di Uomini e Donne. La sua prima apparizione nel programma risale infatti al 2018 Dopo una pausa è tornata a frequentare il salotto televisivo e sembra che lo abbia fatto con uno spirito nuovo La donna ha cambiato atteggiamento anche nei confronti della vecchia, nemica, Roberta Di Padua Non è un mistero. Fra Roberta e Barbara non c'è mai stata troppa simpatia Le due donne si sono scontrate varie volte e in più occasioni l'una ha attaccato l'altra con parole assai forte Mitico è lo scontro a tre fra Barbara, Roberta e Aurora Tropea. Un confronto che stava per trasformarsi in una Royal Rumble L'accesa discussione risale a fine novembre 2023. Ma poco dopo, le tre protagoniste si sono di nuovo accusate e insultate a vicenda a favore di telecamere Alla base degli scontri c'è il fatto che Roberta e Barbara hanno frequentato lo stesso cavaliere, Marco Viola Poi, le due si sono accapigliate anche per Armando Incarnato Barbara commenta una foto di Roberta Di Padua. I fan di Uomini e Donne sono increduli Pare che Barbara De Santi sia riuscita a trovare un punto di incontro con Roberta Di Padua Ultimamente la Mantovana, che in passato aveva criticato aspramente l'indecisione cronica di Roberta Sembra aver imparato ad apprezzare la sensibilità dell'ex rivale E ora le due dame si rispettano In una foto pubblicata su Instagram, Roberta Di Padua si mostra felice con il suo nuovo compagno Alessandro Vicinanza I due avrebbero anche manifestato l'intenzione di sposarsi un giorno Nella didascalia alle foto su sfondo bucolico Roberta scrive Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai Tu, attenzione, dedizione, pazienza e tanto amore con noi Grata, tu sei tu Non è una poesia ermetica Ma una dichiarazione d'amore e il senso del messaggio è stato compreso e apprezzato anche da Barbara Che sotto al post di Roberta ha commentato Le foto stupende? Le tue parole sono tutto E poi ha aggiunto anche un cuoricino Insomma, pare proprio che Barbara e Roberta abbiano sotterrato l'ascia di guerra Grazie a tutti